ciao a tutti oggi vi voglio dare dei preziosi consigli per scegliere un buon olio extravergine di oliva abbiamo cinque criteri da tener conto partiamo dal primo ovvero la confezione quando andiamo ad acquistare il nostro olio extravergine di oliva bisogna fare attenzione alla confezione in cui è contenuto bisogna sempre scegliere o nel caso in cui volessimo acquistare una bottiglia di vetro che sia un vetro scuro oppure latte o bag in box questo fa sì che l'olio viene protetto dalla luce altro altro fattore deve essere protetto dall'ossigeno quindi la soluzione migliore è il formato bag in box ovvero dove ha un pratico rubinetto dove appunto non permette mai il contatto dell'olio con l'ossigeno secondo fattore bisogna leggere bene l'etichetta in etichetta deve essere appunto scritto olio extravergine di oliva bisogna fare molta attenzione e nel retro etichetta deve essere nominata la nomenclatura olio di oliva di categoria superiore ottenuto mediante procedimenti meccanici terzo fattore la provenienza delle olive bisogna sempre accertarsi da dove arrivano le olive con cui è stato fatto l'olio deve essere quindi specificato o made in italy o 100% italiano o addirittura dop o igp meglio ancora se scegliamo i monovarietali ovvero delle cultivar delle varietà di olive che vengono utilizzate solo esclusivamente quelle che vengono indicate per la produzione di quell'olio quarto aspetto il prezzo ebbene come abbiamo detto in altri video non acquistare mai un olio extravergine di oliva che costi meno di 8 9 euro al litro perché come abbiamo visto i costi di produzione sono vicino a quella a quella cifra quinto ed ultimo criterio abbiamo l'assaggio dell'olio un olio extravergine di oliva di qualità non deve avere difetti quindi non deve avere sapori strani di grasso o di muffe ma deve avere profumi e sapori freschi vegetali che ricordano comunque sia delle sensazioni piacevoli state attenti a questi preziosi consigli ed acquistate sempre olio extravergine di oliva di qualità da lorenzo è tutto al prossimo video ciao